Ciao a tutti e benvenuti nel nostro canale. Oggi scopriremo insieme come funziona un robot tagliaerba, un vero alleato per il mantenimento del vostro giardino. I robot tagliaerba sono dispositivi automatici progettati per tagliare l'erba senza che noi dobbiamo muovere un dito. Ma come riescono a farlo? Innanzitutto, questi piccoli gioielli della tecnologia si basano su sensori GPS e infrarossi e algoritmi avanzati per navigare autonomamente nel giardino. Alcuni modelli meno recenti richiedevano di installare un cavo perimetrale sottoterra o appena sopra il manto erboso che delimitava l'area di lavoro del robot. Questo cavo invia un segnale che il robot rileva per capire fino a dove può spingersi senza rischiare di danneggiare aiuole o finire su un vialetto. I modelli più recenti possono essere mappati da app via GPS e non hanno bisogno di interventi sul giardino. Una volta definito il perimetro, il robot tagliaerba si muove in maniera casuale o seguendo schemi prestability, a seconda del modello. La tecnologia di bordo assicura che ogni centimetro di erba venga tagliato in maniera uniforme e precisa. Pensate che alcuni modelli possono anche gestire terreni con pendenze o buche. Ma c'è di più. Molti robot tagliaerba sono dotati di connettività wifi o bluetooth, il che significa che potete controllarli tramite smartphone o tablet. Potete avviarli, fermarli, programmarli e persino monitorare il loro percorso in tempo reale. Non è incredibile? Questi dispositivi sono anche molto silenziosi, quindi possono lavorare a qualsiasi ora senza disturbare voi o i vicini. E la sicurezza? Non preoccupatevi. I robot tagliaerba sono dotati di sistemi di sicurezza che fermano le lame non appena il robot viene sollevato o si ribalta. E per quanto riguarda la manutenzione, anche in questo caso c'è poco da preoccuparsi. Dopo ogni ciclo di taglio, il robot torna autonomamente alla base di ricarica e, grazie alle lame rotanti, l'usura e minima e riceveranno una sostituzione solo di tanto in tanto. Se questo video vi è piaciuto e volete saperne di più su altre meraviglie tecnologiche per la casa e il giardino, non dimenticate di lasciare un like, commentare con le vostre esperienze o domande e naturalmente iscrivetevi al nostro canale per non perdere i prossimi video. Alla prossima!